Cupra Urban Rebel Concept farà il proprio debutto al Salone Internazionale di Monaco di Baviera. La concept car rende l'idea del futuro linguaggio stilistico dell'auto elettrica urbana che sarà lanciata nel 2025 con la quale Cupra continua a spingersi oltre i limiti con la sua interpretazione più radicale di una urban elettrica prestazionale. Cupra Urban Rebel Concept coniuga elettrificazione pura, sostenibilità e performance con l'emozionante estetica del mondo virtuale anticipando così un'idea del futuro linguaggio stilistico che sfoggerà la urban elettrica.